Vieni a provare la rinnovata area wellness delle terme San Giovanni, dove potrai dedicarti al più completo relax del corpo e della mente. Si rinnova il comitato di Carpani e prepara subito una festa per domenica prossima. Dopo 15 anni, proprio in questi giorni, sono state elette le nuove cariche del consiglio direttivo del comitato. I soci si sono riuniti e hanno approvato all'unanimità il regolamento che gestisce l'attività del comitato. La risposta da parte della cittadinanza è stata positiva e molti si sono presentati all'assemblea dimostrando il senso di appartenenza a un comitato spontaneo a cui tutti possono dare il proprio contributo. Negli intenti del nuovo consiglio direttivo che vede come presidente Tiziano Nocentini, vicepresidente Susanna Marianelli, primo consigliere con delega economo Elio Alberto Girgenti, secondo consigliere con delega piccole manutenzioni Giovanni Battista Biagi e terzo consigliere con delega servizi e comunicazioni Francesco Semeraro la programmazione di eventi culturali, sportivi e di svago. Subito si è messo all'opera questo nuovo direttivo e già da domenica prossima ci sarà la festa della mamma, una festa importantissima che si spera, considerando che sono state invitate anche tutte le scuole bambini, ci sia tantissima gente e si spera di fare come prima partenza è una bella figura con un nuovo comitato. La manifestazione inizierà con l'inaugurazione del nuovo megatavolo alle ore 12. Abbiamo fatto un tavolino che può ospitare più di 100 persone, un tavolino veramente bellissimo che chi verrà la festa lo vedrà diciamo in qualche modo e in questo sistema possiamo accogliere tantissime persone perché con quel tavolino che è un tavolino fisso che ospita 100 persone con altri tavolini che metteremo insomma pensiamo di poter ospitare anche 500-600 persone. Poi si potranno gustare ottimi piatti all'insegna della semplicità e della tradizione. Nel pomeriggio alle ore 15 si entrerà nel vivo del tema della festa con l'esposizione dei lavori per le mamme creati dai bambini delle scuole elementari e materne. Alle 15.30 inizierà il torneo di briscola con ricchi premi e aprirà anche il banco della pesca di beneficenza. Per tutto il tempo della festa si potranno gustare panini con salsiccia e wuster accompagnati da bibite a scelta. Il prossimo futuro diciamo ha interesse il comitato di fare tantissime feste durante la stagione, tantissime feste diciamo gastronomiche dove possono far sì diciamo di raccogliere anche un'economia per rivedere giardini, per fare altri giochi insieme a quelli che sono stati fatti nuovi ultimamente.